La mia avventura con i videogiochi è peculiare, nel senso che i videogiochi della mia infanzia e pre-adolescenza non sono i classici come tutti gli altri. Se avete visto altri miei video saprete che non ho avuto la PS1 e la PS2, ma ho iniziato a giocare direttamente su PC. Certo, nelle sale giochi ci ho giocato anch'io, Super Mario, Metal Slug, giochi sportivi tipo Virtua Striker o Tekken, se possiamo definirlo sportivo. Però a casa ho iniziato a giocare a PC all'età di 10 anni. E il fatto è che i videogiochi che riuscivo a prendere non erano proprio giochi per l'infanzia o adatti a quell'età. Ad esempio No Will Live Forever, sia il primo che il secondo, il primo Mafia, Return to Castle Wolfenstein, insomma giochi da cui un ragazzino che non è nemmeno entrato in pubertà dovrebbe tenersi alla larga. Per fortuna poi non sono diventato un pazzo criminale, un pappono, uno spacciatore, come chi condanna i videogiochi dica sia quello il destino di chi gioca questi giochi violenti. Però se un giorno mio figlio dovesse approcciarsi ai videogiochi lo farei giocare ad altro, con qualcosa di più vicino al suo target di età, ecco. Però di quegli anni è impossibile dimenticare le atmosfere dei videogiochi. Atmosfere che sarebbe impossibile replicare con le tecnologie odierne, anche con tutto il ray tracing del mondo. Ci ho fatto anche qualche video sui videogiochi con l'atmosfera che più mi è rimasta impressa nel corso degli anni. Questo perché all'epoca determinate cose erano impossibili da proporre anche sulla più potente delle macchine. Diventava dunque una questione di less is more, quanto meno cose complicate c'erano a schermo, quanto meglio era per l'atmosfera generale di un videogioco. E per un prodotto a basso budget, ma con tantissime idee incredibili come il primo Max Payne, questa è la filosofia perfetta. Se è vero che le prime impressioni fanno la differenza, la New York arida, gelda e asettica di Max Payne ci fornisce un gran bel biglietto da visita. Quasi a voler essere la coprotagonista dell'avventura del detective più cinico, iconico e depresso d'America. La storia di Max la conosciamo tutti, anche il tono generale dell'opera, molto dark, depresso, noir, a tratti gotico e sovrannaturale. Ma senza perdere la verve comica, autoreferenziale e metavideoludica che lo contraddistingue. Riuscendo così a non risultare mai troppo in tutti i sensi. Già dal menu principale veniamo catturati da un'atmosfera, metà tra il classico eroe dei film d'azione e film noir hardball degli anni 40 e 50. In questa immagine Max sembra essere un eroe su un poster di un film. Il bello è che il gioco è molto tragico, ma come già detto non perde mai la propria verve di videogioco appunto, sapendo quando esagerare sugli stereotipi del proprio genere di appartenenza. E Sam Blake e Remedy sono sempre stati molto bravi in questo, nel creare storie e personaggi che bucassero lo schermo in tutti i sensi. E la città di New York, o meglio noir York City come la definisce Max, è la perfetta compagna di avventure. Avventure che ci conducono sempre più a fondo e poi in cima di un impero criminale che si diramma in tutta la città. Una città che viene resa ancora più grigia di quanto New York non lo possa essere già, avete presente quella in GTA 4? Ancora di più. Una città che durante gli eventi di gioco attraversa una tremenda bufera di neve che congeva letteralmente tutta la città. E dunque in giro non si vede nessuno, se non gente con cattive intenzioni, drogati e fuori di testa. Atmosfere quasi da fumetto, senza quasi. E non è un caso se Max Payne viene narrato con delle scene in intermezzo da graphic novel. Certo, oltre al fatto che il budget non permetteva altro. Gli ambienti esterni di Max Payne sembrano usciti da una New York post-apocalittica, con strade buie e illuminate sporadicamente da qualche lampione. Luci sparse qua e là e proveniente da appartamenti nei bassi fondi. Cabine telefoniche e automobili lasciate accese perché, se spente, il motore si congelerebbe del tutto. Veicoli bui e pericolosi, illuminati fiocamente da qualche fuoco improvvisato dai senza tetto. Palazzi alti trascurati, che emergono dalle ombre per saligliarsi in alto, avvicinandosi al cielo della città, che è totalmente coperto, ma non buio. Perché grazie all'inquinamento luminoso che viene bloccato dalle nubi, contribuisce a dare quel tono grigio scuro ed inconfondibile. Luci al neon che provengono da qualche insegna di negozi sparsi qua e là, o da motelli il cui livello di igiene e sicurezza è sempre essere l'ultimo dei problemi per chi ci abita. E il vapore costante che emerge dai tombini. Le strade sono deserte, non c'è nessuno in giro. E solo pensare in contrasto che queste strade durante il giorno siano trafficate da gente che va al lavoro o si sposta semplicemente in giro per la città, rende ancora più inquietante il contrasto che si vive durante i livelli di Max Payne. Il tutto mentre la tempesta cale incessante sulla città e la stringe nella sua morsa di gelo, con la neve che continua a cadere in perterrita, quasi a voler anticipare l'arrivo del Ragnarok. La sensazione di totale deserto urbano in una notte così restituisce una sensazione di backdoor e spazi liminali che soltanto videogiochi di quell'epoca riescono a restituire. In uno dei livelli, chiamato La paura mette le ali, in cui si deve saltare da un palazzo all'altro, ricordo perfettamente una televisione accesa in uno degli appartamenti occupati. Tutto buio, solo con la luce della tv a proiettare un po' di calore. E di sottofondo un episodio di Indirizzo sconosciuto, una serie tv all'interno di Max Payne, con delle vibes a metà tra Twin Peaks e Twilight Zone. Terrificante ancora oggi, pensare a quel feniricottero rosa, quelle voci altamente affettate e quel maledetto urlo. E per controbilanciare questi toni cubi e soprannaturali ogni tanto capita di incrociare un altro programma televisivo dai toni molto leggeri. Ovvero la sopopera Lords and Ladies, che a tratti sembra ricordare sensualità a corte di mai dire. Poi il lavoro sull'illuminazione è davvero fenomenale ancora oggi, non è invecchiato per niente. E dimostra che tutto quello che serve sono le giuste texture e le fonti di illuminazione piazzate in punti strategici. Non servono luci dinamiche oppure pozzanghere che riflettono luci al neon per creare qualcosa di convincente. E la New York proposta da Max Payne è una delle migliori e più inquietanti mai viste in un videogioco. Ma ciò non si limita solo all'ambientazione esterna di Max Payne, ma anche agli interni. Forse è il vero punto forte delle mappe. Visto che gli esterni, per quanto affascinati, possono risultare uguali fra di loro. Mentre gli interni mostrano una grande varietà di situazioni e ambientazioni. A partire dalla casa di Max, messa sotto sopra, con macchie di sangue, specchi rotti, un'atmosfera da mettere i brividi anche alle ossa. E quella maledetta luce rosso-arancione che proviene dalle finestre. Che dovrebbe essere un tramonto, ma dà una sensazione di vera e propria discesa agli inferi. E se ci facciamo caso, è l'unico livello nel videogioco dove si vede ancora la luce del sole. Il sogno americano trasformato in incubo. La leggendaria stazione di Rosco Street, nel Bronx, scena di multiple crimini, tra cui collegata a una rapina. L'illuminazione giallognola dei neon che si espande sulle pareti piastrellate, rovinate. I lunghi corridoi vuoti, bagni desolati e poco illuminati. Uno spazio luminale vero e proprio, come già accennato in precedenza. L'hotel poi restituisce una sensazione autentica di posto pericoloso, malfamato e poco raccomandabile. Oltre alla solita atmosfera decadente restituita dall'illuminazione, troviamo pareti che cadono a pezzi, carta da parati strappata e sporca, arreddamento scadente e ormai in degrado. Stanze sporche e abbandonate, oltre che inquietante, visto quello che i clienti andavano a fare lì. Criminali senza scrupoli che traficano la droga Valkyria e i tossici sopraffatti da essa, negli angoli più bui, a piangere e a delirare. Scene horror senza sfociare in splatter, o cose simili per impressionare il pubblico. Passiamo dai peggiori bassi fondi alle ville di lusso, ma totalmente asettiche, quasi come ad essere in Ice White Chat. Palazzi tutti in metallo e d'acciaio, per citare Matrix in quel caso, in un contesto post-industriale asettico e freddo. E infine, come non menzionare le sequenze oniriche, o meglio deliranti, di Max sotto effetto della droga Valkyria. Spazi e suoni angoscianti in cerca dell'amore perduto e di tutto ciò che gli era caro. Oppure ancora l'arena, se così vogliamo chiamarla, dove si batte Jack Lupino, che sta delirando sotto gli effetti della droga. In qualsiasi modo la si voglia andare a vedere, che sia attraverso l'uso dell'illuminazione, la caratterizzazione dei nemici o l'arredamento degli interni, l'atmosfera del primo Max Penny rimane ancora oggi irripetibile, dimostrando che le giuste texture, giusta luce, come detto prima, possono rendere il tutto molto più immersivo di quanto si possa credere. Basta solo tanta immaginazione, voglia di fare e giusti mezzi a disposizione. Anche il sonoro gioca un ruolo fondamentale nel restituire sensazioni credibili, perché anche se le strade sono deserte e sembra tutto apparentemente silenzioso, in realtà in sottofondo riusciamo a sentire la città viva, con il traffico, le sirene della polizia, treni che passano sulla ferrovia sopra levate e cani che abbaiono in lontananza. Tutto questo ci aiuta ad immergerci ancora di più, perché questo vuol dire che, anche se notte tardi, la gente è dentro, in casa, a dormire, a stare a riparo da questa tempesta, la vita continua anche per chi è lì fuori, per sopravvivere in qualsiasi modo e per chi deve lavorare, per impedire tutto ciò. Gli interni pieni di silenzi e rumori provenienti dall'esterno, dalla bufera dunque, e provenienti dalle tv accese, dai distributori automatici e dai neon sparsi in giro, dei campionamenti sonori che funzionano benissimo e restituiscono quell'atmosfera insieme all'impatto visivo. La colonna sonora poi, non lo sto manco a dire, è una delle più iconiche del mondo videoludico, senza aver bisogno di composizioni iper stratificate e complesse, grazie a melodie immediatamente riconoscibili che diventano subito familiari, con pochi strumenti e anche a basso budget, perché si sente che i synth sono a bassissimo budget, ma va bene così, fa parte dell'atmosfera. Max Payne è tutt'oggi un capolavoro sotto tutti i punti di vista. Dal gameplay alle meccaniche, al game design e tutto quello che ruota attorno a un videogioco, rimane uno dei videogiochi più influenti ed importanti di sempre, e senza l'atmosfera che lo circonda non sarebbe stato lo stesso.